Prenderà il via il 23 ottobre, a quasi un anno dalla conclusione del giudizio di primo grado, il processo in corte d'assise d'appello a Firenze sul duplice omicidio di via Benedetto Varchi. Giava di Sciamera è stato condannato all'ergastolo nel dicembre 2023 per la morte della compagna Sara Ruschi di 35 anni e della suocera Brunetta Ridolfi di 76. Secondo i giudici Aretini, l'uomo avrebbe agito senza pietà, nessun delitto di impeto, avrebbe potuto trattenersi mafferato il coltello e ucciso le due donne a sangue freddo, con più coltellata al cuore aveva spiegato il Tribunale di Arezzo nelle motivazioni che avevano portato alla condanna. Il duplice delitto nella notte tra il 12 e il 13 aprile nell'appartamento dove la coppia viveva con i figli all'epoca di 16 e due anni, entrambi presenti al momento dell'omicidio. Sara Ruschi aveva deciso di lasciare il compagno che però non voleva accettare la fine della relazione. La difesa dell'uomo aveva chiesto che il 38enne fosse sottoposto a perizia psichiatrica, istanza però rigettata dalla Corte d'Assise e che adesso potrebbe essere ripresentata in appello.